E' per te che il sole non finisce mai, ti spenderò e non smetterò di amarti mai dentro me. Eccolo il più amato dalle donne, sempre attorniato dalle fans, Paolo Meneguzzi ha ancora senso cantare l'amore. Assolutamente più che mai, credo che anzi, non bisogna mai farne a meno, bisogna sempre metterlo in tutte le cose. Cercare di prenderlo come una cosa semplice, non pensare troppo in grande ai sogni mega, non mettere l'amore per sogni incredibili, che magari quelli che ti dicono molte volte le televisioni o le persone sbagliate, magari ti dicono devi fare i soldi, devi comprare questo, devi comprare quello, la borsetta firmata, devi diventare famoso più che puoi. No, l'amore va nelle cose semplici, nella famiglia, nella vita di tutti i giorni. Nell'ultimo singolo dici, la vita cos'è senza l'amore, ma tu caro Pablo, come lo vivi questo sentimento? Ma io lo vivo benissimo adesso, sono fidanzato, ho una ragazza splendida da sette anni che ho tenuto nascosta per diverso tempo, però è stato bello anche quello, comunque vivere il mio momento di musica, adesso però devo essere un po' più concreto come uomo. Quanta carica ti dà l'esibizione dal vivo in una piazza come questa? Io sono un cantante da piazza, io non vedo l'ora di salire su un palco e di coinvolgere tutte le persone, di farle felice, di strappare un sorriso anche alle persone che non mi conoscono, quindi in una piazza ne trovi anche tante da conquistare e il bello è proprio quello. Tra l'altro tu conosci molto bene il pubblico di Padova. Ma qua c'è tanta energia, il pubblico sa dove arriva, dove viene, sa che si vuole divertire, che ha voglia di sentire bella musica, quindi già per metà è fatto. Poi in un tour come questo che è meraviglioso, la gente lo conosce, quindi stanno sotto il palco ad aspettare gli artisti e la bella musica. E da qui in poi come sarà la tua estate? Ma dopo Festival Show io continuo a essere in tour, sono in tour perennemente, quindi la vita cos'è tour con il mio nuovo singolo continua e andrà avanti tutta l'estate, poi a settembre nuove avventure, nuovo album. Vivere in eterno e nell'immenso, come se non fosse stato mai amore. Dio, la vita cos'è senza l'amore. Ciao amici di Tele Venezia da Paolo Meneguzzi, la città più bella del mondo. Ciao. Buon'estate! E un saluto alle universitarie. Ciao!